Daniele Buzzegoli, è il nuovo allenatore della prima squadra del Novara FC. Lo ha reso noto la società. Ha firmato un contratto annuale con opzione sul rinnovo. Mai dimenticato a Novara, con la maglia azzurra è sceso in campo quasi 200 volte in 7 stagioni, trasformandola in una vera e propria seconda casa. Sul terreno di gioco non si è mai risparmiato, posizionandosi al centro del campo e dando continue indicazioni. Scarica gratuitamente l'app News 24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.